Ciao a tutti, oggi vediamo di dare seguito alla teoria che abbiamo fatto in classe su circuiti capacitivi dando un'occhiata a un esercizio semplice su una rete capacitiva statica ricordiamo, statico intendiamo che il sistema non è finito tutti i suoi periodi transitori e quindi una condizione di stabilità ovviamente, anche qua ci sono dei prerequisiti bisogna ovviamente sapere cos'è la capacità di un condensatore conoscere comunque sempre i principi di Kirchhoff che si possono comunque applicare anche nelle reti capacitive ovviamente bisogna ricordarsi l'equazione costitutiva e poi sapere il funzionamento e il calcolo dei condensatori in serie in parallelo per quanto riguarda quest'ultimo argomento poi facciamo un mini ripasso velocissimo perché si tratterà poi di fare un esercizio sulle serie parallelo dei condensatori quindi, allora, molto brevemente i condensatori, due o più condensatori, sono in serie se sono interessati dalla stessa quantità di carica Q in conseguenza di ciò, noi sappiamo che le tensioni parziali V1, V2 e V3 qui abbiamo fatto un disegnino con tre condensatori ma possono essere un numero qualsiasi si possono ricavare dalla stessa quantità di carica Q divisa per la rispettiva capacità quindi Q, che è la stessa su tutti e tre i condensatori diviso alla rispettiva capacità ci dà la tensione parziale V1 la tensione parziale V2 la V3, eccetera, eccetera ovviamente la via B è la somma la via B, che è la tensione totale è la somma di queste tre tensioni parziali e da questo, non stiamo a fare tutti i passaggi si può ricavare ma questo non lo dà per scontato, però ripetiamo che il risultato di questa piccola dimostrazione è che la capacità equivalente si ottiene facendo l'inverso della somma degli inversi delle capacità nel caso particolare di condensatori due condensatori si fa la classica formula prodotto fratto somma in pratica è la regola delle conduttanze o, se preferite, il duale o, fra virgolette, l'inverso della regola delle resistenze le resistenze che sono in serie si sommano qui, invece, i condensatori che sono in serie che seguono la regola del parallelo delle resistenze ok l'altra configurazione, ovviamente, è il parallelo che è ancora più semplice in parallelo i condensatori hanno la stessa tensione in conseguenza di ciò hanno quantità di carica diverse però il rapporto fra la quantità di carica e la rispettiva capacità ci dà lo stesso parametro, tensione V che è comune a tutti e tre con una piccola dimostrazione che non facciamo vediamo che la capacità totale sarà la somma delle singole capacità in questo caso sono tre ma il numero può essere un numero qualsiasi ovviamente dopo, bene, dopo questo piccolo micro ripasso andiamo a vedere l'esercizio vero e proprio esercizio molto semplice un solo generatore e vogliamo ricavare sostanzialmente la capacità equivalente e tensioni e o quantità di cariche ai capi di questi quattro condensatori è abbastanza evidente che C2 e C3 sono in parallelo fra loro e composti fra loro in parallelo facendo la semplice somma ok, otteniamo questa nuova configurazione in cui questi tre condensatori risultano in serie quindi cominciamo a comporre appunto in parallelo C2 e C3 molto semplicemente si tratta di 14 più 16 micro farad ecco, state sempre attenti in questo caso siamo facilitati dal fatto che tutte le unità di misura sono le stesse perché sapete che i micro farad sarebbero in teoria in questo caso, non so C1 sarebbe 30 per 10 alla meno 6 farad bisogna sempre stare attenti perché a volte negli esercizi per dare un così per valutare l'attenzione dei ragazzi a volte si mischiano un po' le unità di misura bisogna stare attenti a sommare unità di misura omogenee in questo caso otteniamo 30 micro farad qui siamo facilitati da avere tutta un'omogeneità nell'unità di misura ok, fatto il parallelo di C2 e C3 bisogna fare che cosa? bisogna fare la serie di quelle tre capacità i calcoli sono questi, vedete abbiamo l'inverso della somma degli inversi un quindicesimo più un trentesimo più un quindicesimo che fa 7.5 micro farad la nostra capacità equivalente se conosciamo la capacità equivalente possiamo anche calcolare la quantità di carica che è applicata alla C equivalente semplicemente facendo il valore della tensione per il valore della capacità equivalente quindi 100 volt per 7.5 micro farad fa 750 micro coulomb ok ma attenzione che siccome questo circuito esce dalla composizione in serie di questi tre condensatori e sappiamo che i condensatori serie mantengono tutti la stessa quantità di carica allora la quantità di carica Q equivalente che ho associato al condensatore da 7.5 micro farad è la stessa che trovo in questi tre condensatori serie che danno luogo alla capacità equivalente di 7.5 e quindi ecco che posso andare a fare cosa? andare a calcolare molto semplicemente le tensioni parziali come rapporto fra la quantità di carica che è la stessa che sono 750 750 micro coulomb fratto rispettive capacità e vengono fuori i tre valori delle tensioni ovviamente ecco qua vedete come dicevamo siccome la quantità di carica è la stessa ok sui tre condensatori è abbastanza evidente che su questi due condensatori C1 e C2 e 3 che hanno lo stesso valore avremo la stessa tensione parziale che è più piccola dove la capacità è più grande quindi è più piccola su C1 e su C2 e 3 saranno 25 volte e sarà 650 micro coulomb fratto 15 50 volt quindi è sulla C4 quindi è più grande la tensione sulla capacità inferiore anche questa è una cosa interessante da notare fatto questo molto semplicemente si torna alla rete originaria e siccome noi sappiamo la tensione VBC che è la tensione V2.3 sostanzialmente vi ricordo che noi abbiamo determinato la tensione V2.3 coincide con quella ai nodi BC e quindi possiamo tranquillamente calcolare la quantità di carica sul condensatore C2 facendo la V2.3 che erano 25 volt per la capacità C2 e la Q3 facendo la stessa tensione per la capacità C3 quindi il problema è risolto sostanzialmente abbiamo calcolato tutte le tensioni e tutte le quantità di carica relative a questa rete che è una rete semplice però bisogna un po' automatizzare questo processo notare che sui testi anche su quello che usiamo in classe si fa riferimento spesso al partitore di tensione o di carica che sono formule che si possono usare su molti testi ci sono io preferisco rifarmi ai principi generali cioè all'equazione costitutiva per evitare di imparare a memoria troppe formule risolutive tanto questi con un solo generatore e tanti condensatori che si compongono in una C equivalente con la serie in parallelo si possono sempre comunque risolvere ricordandosi che molto semplicemente le capacità in serie hanno la stessa quantità di carica e quelle in parallelo la stessa tensione e ovviamente le questioni costitutiva quindi molto semplice da risolvere e direi che è finita eserciziato veloce lezioncina semplice dategli un'occhiata perché verificheremo in classe poi tutto ciao e buon lavoro